Padre mio, ti raccomando lo spirito mio nelle tue mani e così dicendo lo spirito esci fuori del corpo e rimase col capo chinato nel suo tetto. Oh, qual'era l'anima della madre allora quando lo suo figliuolo vedea con tanta pena di nirueno e gridare e piangere e morire. Dè, or che faceva allora la Maddalena sua fidele e diletta discepola? E che faceva San Giovanni, il quale era amato da lui e sopra tutti gli altri? E che facevano le altre due sorelle? E che potevano le fare? Partesi tutta la gente e rimane la tristissima Madre sua con quelle altre quattro persone che dette sono. Ponzi a sedere al lato alla croce e contempla lo suo diletto figlio e piangeva e lacrimava senza rimedi ognuno. guardava le ferite delle mani e degli piedi e del lato, ora l'una e ora l'altra e il volto e il capo e vedeva le punture delle spine, la barba di velta e la faccia brutta di sputo e di sangue. e guardando e piangendo non si poteva saziare. Grazie a lui. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.